Allora, leggiamo il problema di un ragazzo. Per un anno intero io e la mia migliore amica siamo stati scopo amici. È capitato più di una volta che mi abbia detto ti amo, ma non si è mai voluta impegnare una relazione con me. A dicembre lei conosce un ragazzo, da quel momento in poi le cose tra di noi sono cambiate. Adesso c'è molta più distanza tra di noi e mi sono sentito sostituito. Loro non sono fidanzati ma hanno iniziato una scopo amicizia, insomma, viva le scopo amicizie. Sono in questa situazione in cui non so come comportarmi con lei. Allora, secondo me se lei ti ha detto ti amo, qua di scopo amicizia non c'è proprio un bel niente. Cioè c'è qualcosa che non si è voluto far evolvere una relazione e che non si sa effettivamente il perché. Cioè se scopate, siete comunque amici, vuol dire che vi trovate bene insieme. C'è del sentimento, quindi io avrei provato a iniziare una relazione. Ci sta però secondo me che si allontana. Cioè dopo che tu scopi con una persona e addirittura provi dei sentimenti e intraprendi una nuova relazione, secondo me ci sta un po' allontanarsi. Secondo me è una delle cose negative appunto di avere uno scopo amico. Secondo me è un po' strano nel senso, se lei te l'ha detto a te senza che tu lo dicessi a lei e poi o non ha minima concezione di quello che sta dicendo, nel senso che te l'ha detto ma ha un'interpretazione totalmente diversa da quello che hai te, non dico giusto o sbagliata ma magari per lei ti amo lo dice alla terza uscita con un ragazzo a caso mentre per te significa qualcosa di più. O magari lì per lì le è scappato in qualche modo, voleva esprimere magari affetto e l'hai spesso sbagliando con quella parola e te l'hai valorizzata troppo perché se una ti dice ti amo e poi non si può mettere con te, mi pare un po'... Cioè... Quella è la cosa strana, hai capito? Cioè dici ti amo e poi non vuoi metterti insieme a me perché per esempio in chat hanno scritto Mari si lasciava trasportare dal momento oppure si è aspettato un ricambio della cosa non vedendola si è stufata. Però ha detto che non si è mai voluta impegnare in una relazione con lui quindi vuol dire che lui avrà ricambiato in qualche modo cioè avrà provato a fare questa relazione. Questo lo immagino, però secondo me è una cosa positiva che si siano allontanati perché sarebbe degenerata la cosa. Non sai come comportarti, secondo me il buon vecchio chiedere spiegazioni, cioè analizzare situazione perlomeno la risolvi, cioè tanto comunque lei sta strombando con un altro quindi credo che ormai il ti amo tutto lo possa scordare credo per adesso quantomeno mandare un messaggio, incontrala e chiedi farci una parlata di persone e chiedi ma cos'è successo? Perché non ho capito proprio non ho capito cos'è successo vogliamo continuare, vogliamo provarci vogliamo... Sì, anche secondo me anche perché se sono scopo amici come hai detto non sono fidanzati secondo me puoi ancora intervenire nella question, ok? con l'odio sicuramente del tipo che dice ma questo che cazzo vuole ormai il tuo tempo l'hai fatto lucky però io fossi in te se ci tieni a lei e vuoi effettivamente iniziare una relazione proverei appunto come dice Nanni a chiedere spiegazioni a provarci altrimenti se non ti interessava quel punto di vista interessa solo la scopata lasciala perdere Adesso c'è molta più distanza tra di noi e mi sono sentito sostituito non è che ti sei sentito probabilmente sei stato sostituito cioè direttamente il punto è questa sostituzione può essere diciamo riavvolta nel senso che magari uno dei due ha fatto una mossa sbagliata nel percorso e vi siete persi e nessuno ha il coraggio di affrontare discussione oppure effettivamente non c'è più nulla da fare nel caso risolvi la situazione e dati pace cioè vai avanti ciao Cristina e Nanni sono aperta la presenza di quadra redatto sono è un problema con una donna che non ha cresciuto da poco io sono un grande professionista su un gioco che si chiama Valorant possiamo dire migliore in Italia comunque il fatto che è che lei si rifiuta di scaricarlo io ho scaricato quella merda di Animal Crossing di Okane scende a compromessi scaricalo dai facciamore anche due vediamo dove si arriva insieme non è una brutta idea che dite consigli se sia un ebrucato io scriverei pure questa comunque possiamo trovare anche una risposta in realtà a questa nel senso che se i tuoi interessi non coincidono con quelli dell'altra persona non devi sicuramente che sia una relazione che sia una conoscenza obbligare l'altra persona a diciamo mangiare per forza i tuoi interessi cioè piuttosto impegnati invece di sprecare tempo a provare a fargli a farle fargli interessare qualcosa a creare a cercare qualcosa in comune in realtà o a costruire qualcosa da zero visto che siete tutti e due nerd cercate un gioco che piace entrambi a cui giocare insieme per esempio esatto Vinklag non scriverò la posta per favore e soprattutto un'altra cosa dato che Simone Ebrucato che l'ha scritto molto probabilmente magari non si impare 800 ragazzi su Discord Telegram e social o nelle loro stesse live al giorno potrebbe aiutare effettivamente a schiarirti le idee e concentrarti su quell'unica che magari effettivamente ti interessa e non solo perché è davanti a una telecamera ha una vagina o gioca a un video gioco c'è la wave di cringiate doveva capitare prima o poi era andato era andato fin troppo bene ovviamente su richiesta non so come fare una foto senza crisi o ti cringe allora secondo me questa magari troll però può essere no no questa può essere potenzialmente seria esatto esatto potrebbe essere potenzialmente seria il fatto è che allora ovviamente su richiesta cioè proprio ti chiedono inviami la foto del cazzo boh secondo me puoi fare una storia una cosa di vedo o non vedo tipo magari ti metti così però se ti cringia lo so che è un po' strano cioè devi anche devi anche sentirtela secondo me se no ti cringe non ti esce neanche bene sì la domanda che se senti male c'è la domanda la frase è a me cringe inviare le foto del cazzo tra parentesi ovviamente su richiesta non so come fare una foto senza che risulti cringe devi essere nel momento nel senso che il sexting è bello se lo stai vivendo in quello stesso momento se mandi roba se ricevi roba è sempre bello però se se mandi te personalmente qualcosa cioè devi devi riuscire a capire che è il momento giusto cioè devi tastare un po' il terreno prima no magari non lo so parli o uno scambio di selfie vedi che anche l'altra persona è sul letto eh non dico poi di mandarglielo così però capisci che la situazione è giusta lei te lo fa capire lui te lo fa capire e allora a quel punto parte lo scambio di foto piano piano sempre più esplicito secondo me deve essere costituito così se te durante il giorno anche se la tipa anche se sai che la tipa te l'ha specificamente detto che le fa piacere ricevere foto dei cazzi durante il giorno se te secondo me se te glielo mandi parli a tre di pomeriggio mettila al lavoro boh è cringe deve esserci il giusto contesto la giusta situazione per entrambi magari un selfino sexy ci può stare proprio la foto del cazzo eh esatto qualcosa di più sensuale ok la foto del cazzo così sia secco boh eh boh allora non lo so anche perché secondo me cioè dipende anche molto come te la fai io per esempio sono una apprezzatrice e con questo non sto richiedendo foto di questo tipo quando richiesta eh dalla foto tipo top boxerino ce l'hai duro e ti fai la foto però dentro le pantate sì ci sta capito che vedi secondo me quello è molto intrigante cioè non c'è lì il cazzo pure esplicito però è sexy cioè da dire che per i ragazzi secondo me è più difficile trovare la posa sexy nel senso che tra i ragazzi comunque è la topa è il culo le puppe le labbra le gambe le cosce le calze il vestiario il vestito l'intimo cioè te magari sei lì con le mutande navigare cioè hai capito oh eh ci sta why not dal basso ovviamente così vi sembra più grande mi raccomando no quello secondo me non dovete fa finta di avercelo più cioè fatelo con no questioni prospettiva cioè per non farlo sembrare sì ma allora io vi do un consiglio se vi perché mi è capitato quando ero più piccolo e ho parlato dei miei errori se vi relegate alla prospettiva fingendo una dimensione che non avete ricordatevi che poi quando vi ritrovate nelle stesse situazioni beh di persona poi la gente lo vede ma neanche nel sexting siete poi incatenati alla prospettiva stessa e quindi a un certo punto vi rendete conto che se non la fate la foto dalle solite due angolazioni tutte le altre sembreranno falsate cioè sembreranno naturali ovviamente e quindi dopo la seconda volta che fai sexting e che quella magari ti manda la foto di tutto e te gli mandi solo la foto da un'angolazione lo capisce anche lei e si cringia quindi vabbè è un mix cioè normale anche dal basso normale dal basso di lato cioè le angolature sono tante potete mettervelo tipo da sdraiati di lato che si vede tutto il profilo potete farlo più da vicino potete farlo da dietro che vi si vede la parte sopra è un po' di faccia da che ne so sia un pochino tipo angolato in diagonale a modi ce ne sono dai oppure tipo che ne so sdraiato se magari avete la pancetta quindi da in piedi non è il massimo da sdraiato che tipo abbassi un po' il boxer si vede un po' di più di là all'inizio quello io sono molto fan del vedo non vedo secondo me è molto più erotico alle volte il vedo non vedo più giustoso che la cosa esplicita anche anche poi il movimento magari più se avete un bel fisico e cioè basta potete anche fare la vaglietta fa il cazzo che vi pare però non lo so anche abbassarsi lentamente le mutande o appunto vedere la forma di lato cioè sono cose che comunque credo che bene o male ma per variare un po' una cosa che a me piace molto fare quando le poche volte che capita è riprendere proprio tutta la mano in bocca o sputarmi in mano e poi farmi una sega o comunque iniziare o strusciarmela sul cazzo e per un attimo ti ho immaginato col pugno in bocca e ho detto no così o tipo lo sputo con la saliva che poi cola sul cazzo ripreso quello secondo me è super top ci sta ci sta dipende come viene fatto bisognerebbe vederlo poi oh ci sta che non vi piaccia nel senso non deve essere neanche secondo me definito bockink cioè semplicemente è un qualcosa che magari non vi stuzzica magari non vi citate neanche per dire pensandoci e giustamente se questa cosa non vi stuzzica neanche al pensiero è normale che la vediate cringe qualsiasi foto angolatura posa posizione fatta o ricevuta o atto durante il video perché poi ricordiamoci un altro piccolo messaggio che chi fa sexting con le foto la cringe cioè se volete fare con le foto le cringe cioè le foto devono essere una pripista dopo 3-4 foto si passa i video video il suono il rumore più di un secondo c'è una foto che cazzo mi dura ma un'altra cosa magari ti sembra una pubblicità progresso però è meglio ricordarlo se magari state conoscendo questa persona non riprendetevi in faccia cioè nel senso riprendetevi nel video quando conoscete già bene quella persona se vi interessa se vi interessa il pensiero di una pubblicazione di contenuti e se vi mette ansia il fatto del revenge porn ecco non lo fate mi ha sempre portato una sega che perché poi è difficile farsi una sega con la destra e non rinocce il tatuaggio sulla mano quindi per forza di cose vabbè sì ovviamente certo ormai tu sei cosa non è quanto spargi di fondotinta però sai magari c'è un ragazzetto della chat che vuole effettivamente provarci inizia a fare i sexting eccetera erroneamente si prende in faccia eccetera poi gira la foto in classe cioè un attimo capito no no quello sì assolutamente se potete evitate soprattutto perché non succede solo alle ragazze succede anche ai ragazzi è meglio sempre ricordarlo quindi video sempre poi ripeto deve essere una cosa che vi sentite di fare avete voglia di fare vi piace l'idea ci sta lo so io per esempio guardo la gente che si appende come salami al soffitto li guardo e faccio cringe perché a me non stuzzica cosa è salami al soffitto? la gente che si appende tipo con le corde no no non sul collo eh sì quello a me ma quello non è propriamente c'è sesso è più una vabbè è un kink performance è una performance sono le sospensioni eh la gente però provi piacere non è la cioè provi piacere non sempre no 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 cioè lì non è bondage lì si tratta proprio di una performance artistica poi ci sono persone che si trattano il kink che legano eccetera ma non per tutti te dici un'altra cosa cioè c'è gente che proprio ne parliamo anche in live tipo due anni fa cioè proprio che ehm si fa legare si fa appendere dal soffitto tutta legata come un salami in delle posizioni ben precise che eh ti ci tengono tipo una mezz'oretta e tipo eh ti dà cioè è eccitante e loro si pigliano bene sì 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 eccitante oppure comunque boh un'esperienza di qualche tipo eh però per esempio a me quello lo vedo faccio cringe ma perché non mi stuzzica neanche l'idea no vabbè quello lo stesso non piace neanche a me cioè che palle io voglio stare libera quando faccio le cose ok se magari c'è il momento tipo la ball gag la cosettina per gli occhi per non vedere lì già c'è un altro climax ma così appesano ci sta mi sentirei tipo un prosciutto e comunque come ogni altra esperienza sessuale provata come prima volta è normale che la prima volta ci sarà imbarazzo non saprete che fare vi sembrerà strano però se dall'altra parte c'avete una persona che vi risponde vuol dire che tanto male non sta andando ciao nani e cri sono un ragazzo timido soprattutto in presenza di ragazze non mi ritrovo molto nella generazione in cui mi trovo sono del 95 in quanto vedo che oramai l'attività preferita è andare in discoteca forse un tempo cosa che non fa per me e mi fa sentire molto a disagio oltre alla musica completamente fuori dai miei gusti personali per farvi capire a luglio vado al concetto degli Iron Maiden mi piacerebbe conoscere nuove persone con cui condividere le mie passioni come anche fumetti o lettura fantasy ma mirano non aiuta a fare amicizia oltre al mio essere un poco chiuso che mi consigliate però a parte che secondo me questa roba dell'andare in discoteca succedeva vent'anni fa io non credo che nessuno vada più cioè tipo tre quarti in discoteca del mondo dell'Italia sono chiuse praticamente no ci sono ragazzi che vanno in discoteca tipo mia sorella si piace andandoci anche i suoi amichetti però dipende dalla compagnia si torna sempre là sì e poi che tu vada al concetto degli Iron Maiden c'è sti calchi io ci vado al concetto degli Iron Maiden come vado a quello dei Tool come a quello lo so di Salmo ah per farvi capire quanto gli fa cagare la musica alla discoteca questo fosse riferito per quello ah vabbè ma però anche lì c'è secondo me magari non l'hai descritto precisamente e ti fa cagare tutta la musica però c'è non esiste solo musica alla discoteca cioè esistono le serate tecno hardcore edm musica commerciale della discoteca classica di paese ci sono le serate con magari la dance anni 80 quelle 90 c'è i rave go up i trends la musica tecno underground elettron cioè ce ne sono talmente tante di serate è impossibile che tutta la musica elettronica ti faccia schifo magari potresti provare a cercare qualcosa che più ti piace per esempio nell'ambito musicale oppure semplicemente frequentare altri altri ambienti fumetterie librerie biblioteche che cazzo so gruppi ci saranno a Milano penso tipo salottini di lettura che cazzo ne so ma ci saranno anche per esempio nella mia città c'è un bar un pub dove ogni fine settimana c'è il gruppo che suona ok genere rock punk metal magari anche nella sua città ci saranno anche queste tipologie di posti dove andare a conoscere persone che hanno i tuoi stessi gusti i tuoi stessi interessi semplicemente secondo me devi uscire anche con la tua compagnia perché alle volte non è tanto il posto ma è la compagnia che fa effettivamente il divertimento e la serata ma anche cercare magari negli altri posti altre amicizie altre persone why not Milano non aiuta sta a Milano sto qua capito ma come non aiuta però a Milano c'è il mondo fidati che non aiuta sta nel paesino del cazzo dove non c'hai alternative la gente che c'è magari ha una mentalità un po' più chiura cioè Milano di Ocane beh non male tutti quanti la mentalità un pochino più aperta nel senso generale voglio dire ci sono mille posti ci saranno mille fumetterie mille organizzazioni incontri gruppi sociali cioè veramente poi che sia più difficile incontrare fisicamente una persona lo posso capirlo è chiaro se vai al bar del paese però sono quelle le persone a Milano magari non è difficile fare conoscenza in mezzo alla strada però te devi andare a cercare nell'ambiente che ti piace ma soprattutto con Twitch tra una chiacchiera cioè nel senso secondo me qualcosa ne tiri fuori ma poi su Twitch dio Cristo cioè magari entri in una community ci sarà gente di Milano ci sarà gente di Milano che magari sono già in due o tre puntati lì dentro in mezzo a loro intanto parti da socializzare con ragazzi amici eccetera e poi passi alle ragazze sì piano piano una cosa vale l'altra tu quando socializzi con le ragazze devi capire che tu non te la vuoi tromba cioè devi pensare a quello devi pensare che sia un tuo amico quello che più ti fa schifo solo a immaginarti di andare a letto con lui parlaci dunque in modo e vedrai che andrà bene attenzione let's go ciao Luca ciao a tutti io non so perché sono finito qua non lo so io vi sento anche un attimo fuori posto ma ciao ciao a tutti piacere sono Luca starò qua poco voglio dire una roba però scusa di Milano grave cioè a Milano c'è poca gente vabbè Luca te non riesci mai di casa ma proprio perché sono a Milano e ovunque ti giri c'è gente che vuole far roba capito ti propongono di tutto però il ragazzo diceva che lui era timido secondo me è questo perché lui vuole qualcosa di un po' più intimino ma scusami te Luca per esempio che sei anche te abbastanza timido come te le sei risorte negli anni l'amicizia dipende perché vedi lui tipo dice una roba io vorrei conoscere gente con i miei stessi interessi no tipo la musica i fumetti cioè lì hai già il tuo prototipo cioè lì stai proprio già cercando il tuo prototipo conoscenze normali è molto più semplice farle cioè come ho conosciuto te poi la vita ti porta a caso certo però invece Miri anche bella conosciuta in ospedale pensa vedi ogni posto è buono per conoscere qualcuno poi in ospedale sì perché allora io stavo in ospedale è venuta a trovarmi una mia amica e una Miriam era la sua compagna una sua compagna di classe tipo dovevano studiare assieme poi il pomeriggio tanto ha visto le condizioni di sgraziata in cui eri c'era già il lettino lì pronto non penso sia andata così alla prima volta però conosce no sì comunque no sì è andata così infatti non sono un buon esempio però cioè è questo cioè tu non te lo puoi aspettare esatto Nanni tu hai mai fatto una conoscenza premeditata in che senso cioè nel senso vado in questo posto perché so che in questo posto conoscerò di sicuro una ragazza che per quello che penso mi poterà piacere sicuramente poi l'hai conosciuta e ci sei stata a tot tempo no cioè da parte le uscite magari tipo cazzo ne so in discoteca da ragazzetto o il pomeriggio al bar di la città sì esatto cioè non boh non l'ho mai fatto no sempre venuto sì quindi è più difficile poi si chiama stalking io l'ho sempre cercata le fighe onestamente sui social però appunto è è più diverso però cioè andare cioè andare in un posto per cercare è già molto più complicato ma non lo fa nessuno penso ormai oddio cioè lo faranno tipo i boomer a vent'anni cioè esco fuori in fumetteria per cercare la figa cioè non la troverai mai lì ma secondo me ci sono un sacco di ragazzi anche che lo fanno sì ma infatti si fanno le seghe eh sì perché alla fine cioè se esci con quel presupposto poi non trovi niente un po' come quello che va a pesca non lo so sì sì no ma è proprio sbagliato infatti cioè non so se comunque le due frasi che scrive a lui erano collegate cioè quella perché lui dice poi voglio cercare nuove persone no in teoria non dice che vuole trovare la ragazza lì però non non lo so ma nanni cosa stai facendo è che tanto Luca c'è un po' puzza di merda c'è la mosca da ieri che gira porco dio non è possibile ammazzarla complimenti alle femministe ipocrite che ti dicono che fare sesso non è importante e che gli uomini dovrebbero pensarci di meno però poi loro hanno preso cazzi dai 13 anni o magari hanno noly fans che schifo eccoci vabbè ragazzi ricordatevi sempre una cosa che nel mondo la gente fa il cazzo che gli pare e se una persona o più persone possono risultare ipocriti alle vostre occhi o effettivamente lo sono sti cazzi cioè potete farci niente quindi abbozzate da davanti magari il concetto è una che cioè non femminista ma una che magari si sessualizza e poi si lamenta di chi la sessualizza magari era questo il senso del messaggio boh secondo me cioè non femminista secondo me però è scritto male un messaggio della serie non riesco a scopare e sento i discorsi boh delle ragazze di paese o delle ragazze su internet che dicono sotto i commenti di isera che scrivono ah gli uomini ragionano con il pisello e lui ha fatto un mischione di roba senza senso cioè un'insalata un'epillata pazzesca diciamo questa da piccolo conoscevo questa compagna di classe dolce e gentile telere e amichevole il messaggio il messaggio è diventato un troione colossale questo è il punto in topic perché deve sempre andare a finire così perché deve vincere sempre il male ma perché il male cioè se questa si è fatta le esperienze cioè perché è diventato un troione colossale si è fatta le sue esperienze voglio dire c'è purtroppo alle volte anche questa ancora questa mentalità che se una ragazza ha fatto senso ha avuto delle avventure con più persone diventa un troione cioè nel senso boh magari tu stai cercando una persona dolce gentile e tenere ma lei non è più così ma non è una cosa negativa voglio dire è semplicemente diventata un'altra persona classica che l'ha fatto con tutti ma non con lui esatto però che cazzo vuol dire può essere come lo definisci te tra virgolette un troione colossale comunque essere tenere amichevole cioè non è che anche effettivamente cioè e più che altro non è più pura capito cioè non è più pura come se la ricordava e l'aveva idealizzata molto probabilmente lui cioè magari anche quando era compagna di classe con te si faceva i best dildoni devastanti e tu non lo sapevi per dirti tra l'altro cioè sì che poi c'è comunque non c'è l'età ma il massimo in cui si è compagni di classe quant'è? 19 anni? sì 18 anche quindi c'è il massimo l'ha conosciuta fino a 19 anni sì ma poi mi fai conto che cresci un po' che si perde la virginità beh dipende io non so boh fai 16-17 cioè lei avrà avuto uno span di un anno due anni in cui conosceva lui per fare la troiona cioè è stato sfigato lui sì ma poi sfigato che uno poi crescendo frequentando altri posti cambi di carattere magari al di là troiona non troiona cioè magari effettivamente prima era gentile tenere amichevole adesso vedi tipo c'hai parlato è scontroso arrogante però che diritto hai di commentare su come una persona poi sviluppa la personalità di qualcuno cioè se ora te Chris e Luca siete persone gentili se fra due anni siete fra tre anni quattro anni magari diventate arroganti rispondete male a tutti cioè che cazzo posso farci io? magari la vita va portata a diventare così non è che posso recriminarvelo cioè posso dirvi però siete un po' più educati con me ma basta fine cioè non sono cazzi vostri alla fine non è che posso commentare io è proprio fastidioso il fatto che alcune persone si sentano in dovere di dover giudicare quello che diventi cioè è come se uno dovesse soddisfare effettivamente la tua cosa di idealizzazione quello che vorresti effettivamente che fosse quella persona cioè ma che cazzo vuoi? direi comunque che non puoi commentare ma sono cazzi suoi e se non te l'ha data a lucky don't rosig superati i 30 anni la vita non vale la pena di essere vissuta e soprattutto dopo i 30-35 la gente diventa sempre più stufida chiusa di mente cringe egoista inguardabile questo parla per te Cristina quanti anni hai? 33 mi pare che la sposerei anche domani se potessi anzi io penso che dopo i 40 anni se non sei riuscito a mantenere una certa giovinezza mentale dovrebbero prenderti e portarti su un'isola con tutti gli altri boomer fuori dai coglioni questo è proprio una classica pensione da boomer probabilmente finiresti su quell'isola stessa tra l'altro cioè ma che senso ha? ma quanti anni ha secondo voi? 30? no lo so cioè si rifà i tuoi tiny oppure a persone più grandi lui più piccolo questa è una bella lettura cioè lui è fa parte delle non si riconosce più nei cioè è il peso della sua età che lui dice ma io non sono così io sono più giovane essere sbagliati sono gli altri sì 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 bella lettura 29 esatto cioè non ha molto senso io per esempio ci stavo pensando all'altro giorno ho degli amici che frequentavo quando ero un pochettino più piccola e ora non li frequento più e secondo me è dovuto al fatto che abbiamo cambiato un po' gli interessi loro hanno magari più interessi da adulti passami il termine e io invece continuo ad avere ancora interessi più comuni a persone più piccole della mia età tant'è che infatti la maggior parte dei miei amici con cui mi sento più spesso sono più piccoli rispetto a me quindi videogiochi roba nerd fumetti eccetera eccetera però questo non vuol dire che gli altri miei amici con cui parlavo sono dei boomer semplicemente abbiamo degli interessi diversi ma sì ma poi sei te cioè il tipo che scrive che giudica o che diciamo definisce stupidità cringe egoismo e la bellezza estetica dicendo inguardabile cioè nel senso ora chiusi di mente posso capire a seconda dei discorsi che fanno però voglio dire magari lo saranno per te soprattutto non saranno tutti così cioè io ho 30 anni Cristina c'è 33 per dire Luca ne fa 46 domani cioè nel senso magari per qualcuno sarò cringe e inguardabile però per qualcuno sarò anche chiusi di mente per altri cioè è tutto ho discorsi così magari invece è uno che ha 20 22 anni che per lavoro o altro è costretto a stare magari con gli eventi di 35 40 e lui dice ma io con questa generazione proprio non ci vado d'accordo e si sfoga così ma ci sa ci sa anche che frequenti vari un contesto effettivamente pieno di boomer però non sono tutti così nel mondo esatto cioè non deve fare di tutto l'erbo un fascio il trentenne che stai che c'è tu in ufficio del posto dove lavori non nello stesso trentenne che può essere in anni cioè ognuno sa ma poi i quarantenni di adesso però esatto cioè i quarantenni tra dieci anni saranno diversi dai quarantenni di quando di 20 anni fa cioè o di adesso cioè saremo noi sarò io quarantenne cioè che faccio scurreggio e faccio beh 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 cioè è proprio diverso cambierà tutto quindi non neanche funzionano in prospettiva futura se non mi sta o so poi i boomer ci rimangono cioè il boomer c'è gente che è boomer a 14 anni poi ti compromettono secondo me anche la comunicazione che c'hai quotidiana cioè magari vai a conoscere un trentenne che è il più ganso del mondo o un quarantenne che è il più ganso del mondo e a prescindere gli vai contro perché perché pensi ste robe ho messo il prossimo messaggio questo è per Luca mi sa le donne non hanno empatia è il messaggio e dipende in cosa cioè lui cosa dice è tipo empatia calcistica magari ce ne avranno un po' meno empatia sentimentale magari un po' di più secondo te hanno più empatia sentimentale loro? sì le ragazze sono più empatiche dai secondo me è una questione di persona più che di sesso cioè ci sono ragazzi empatici ragazze empatiche persone che invece non hanno fatto un cazzo oppure che proprio non riescono a capire cosa sta provando effettivamente quella persona e magari dicono cose fuori luogo senza effettivamente pensarci quindi secondo me non c'è altro cazzo il sesso no vabbè è chiaro se vai a vedere il singolo caso tutti possono essere tutto e nulla però generalmente a parità di età le ragazze sono un pochino più di solito magari intuitive empatiche un pochino più ponderate anche nella comunicazione nelle risposte mentre i ragazzi maschi sono più sono più impulsivi sono più no? io ho perso la virginità molto tardi rispetto alla media verso i 25 anni con quello che ora è la mia ex siamo stati insieme a 4 anni ora ho 29 anni e ho avuto solo una ragazza tutti i miei amici mi spingono a fare ora tutte le esperienze sessuali che non ho fatto da giovane ma io non voglio sinceramente i miei amici mi parlano come se visto che ho fatto solo una ragazza aspetta che ho avuto solo una ragazza dovrei fare ora dovrei fare ora dovrei non riesco a leggere oggi ora dovrei provare a farmene 39 di fila ma non ne vedo il senso ma che cazzo come se dovessi scopare con un certo numero di ragazze per definirmi uomo questi discorsi che fanno mi mettono a disagio ma non so come diglielo senza passare per i rompiscatole che dovrei fare però diglielo cioè è infatti diglielo cioè queste cose cringiate che se sei un uomo devi scopare che cazzo sei l'uomo medio bruttissimo cioè a parte che probabilmente riesci a fare più esperienze sessuali con una sola persona piuttosto che con 40 diverse in un anno perché di solito quando vai con la persona diversa da quella precedente magari per una sera o per la seconda sera tipo è sempre ripartire dalle basi a meno che tu non vada con qualcuno di veramente aperta insomma sessualmente quindi se invece c'hai la stessa ragazza crei nel tempo esperimenti nel tempo con la fiducia di entrambi sia sessuale che personale quindi potresti dirgli così per esempio oppure potresti dirgli sono gay oppure potresti dirgli non mi rompiti il cazzo rombo quando mi pare mi piace altrimenti se ti piglia male cazzo ne so sai che i tuoi amici sono un po' tossici digli che stai scopando cazzo te ne oppure rispondi cioè magari se ha paura di rispondere seriamente di buttarla su una battuta come stanno scrivendo tipo presentatemi allora le vostre mamme le vostre mamme presentatemi le vostre sorelle ste robe un po' cringine e quindi direi che è questo e poi sti cazzi cioè vivitela tranquilla non ti temono se ti creano ansia non va bene se ti creano problemi o eh cioè se sono tuoi amici faglielo presente sono sicuro smetteranno ciao Chris ciao chat ciao Nanni sono un ragazzo che stirà dei capelli alla metta e l'altro giorno ho fatto la spesa comprando anche i pomodori pelati arrivo alla cassa noto la cassa era nuova molto piacevole di viso che la vedeva in difficoltà nel passare il codice a barre dei pelati e se ne esce dicendo i pelati non fanno per me ah 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 al che ho preso il codice a barre me lo sono scritto perfettamente sulla testa e sono passato sulla cassa che mi ha preso ehm lei ha riso e le ho chiesto di uscire ed ha accettato questa sera ci vediamo ma non so se fare il serio e lo scherzoso cosa mi consigliate buona live ma io non penso che sia fake come hai fatto a scriverti il codice a barre in te ha tirato una craniata alla cassa secondo me è fake dai come è possibile se è vero è un genio cioè è bellissimo adoro ma non penso ma come fa a farsi il codice a barre che poi lo prende nella cassa cioè cos'è Picasso tra l'altro cioè vabbè al di là della cringiata che non è assolutamente successa magari effettivamente il resto della situazione c'è comunque sì te stesso cioè se è partita scherzando e la tipa ha fatto una battuta sui pelati e te hai fatto autorenia già hai settato comunque un lì c'è una base no? vuol dire che lei ha capito che te sei auteronico ti hai capito che lei fa le battute scherza ma infatti sì pelato hanno scritto in chat esatto rifatti la pelata l'altra volta magari non esordire ciao piacere sono il pelato c'è un ebreo berlusconi e iter sull'aereo cioè non partì con una roba del genere voglio dire vai tranquillo vai ecco vai oltre anche cioè questa cosa del pelato ha funzionato una volta poi basta anche se no che palle ciao Nanni e Chris circa sei mesi fa io e la mia ex ci siamo lasciati dopo un anno di relazione dopodiché ci siamo visti pochissimo e abbiamo interagito molto poco in generale io sono stato male per qualche settimana ma poi mi sono ripreso molto velocemente e ho passato dei periodi molto belli da solo qualche settimana fa ci siamo rivisti ad una serata dove lei mi ha praticamente approcciato ed è finita che siamo andati a scopare a casa sua e a fine serata dopo quel giorno sono tornato a essere irrequieto sono sicuro di non provare più nulla per lei già da tanto tempo nonostante ciò questo episodio ha distrutto totalmente la mia tranquillità probabilmente anche perché dopo questa scopata non ci siamo più visti e ne sentiti e mi sembra che tutto sia rimasto molto sospeso io avrei molta voglia di continuare ma non so se mi farebbe stare ancora più male e non so in generale come tentare una conversazione con lei perché mi sembra una situazione molto ambigua in più capita molto raramente di vederci ormai non mi era mai capitato di riscopare con la mia ex e mi sento molto confusa a riguardo dovrei aspettare di rivederla casualmente o dovrei riscriverle e dirle cosa penso della situazione e anche chiederle a lei cosa ne pensa secondo me vuoi solo sborrare fra cioè se effettivamente dici che non provi niente semplicemente c'hai voglia di risborrare quindi la cosa più semplice è dare un messaggio e scrivere casa mia stasera appunto casa mia domani sera basta fine vinto di non provare più nulla e che non te ne freghi niente se devi ricascare in un loop di star male lei palesemente voleva solo scopare semplicemente una casualità nel senso che magari una serata vi conoscevate già sapevate entrambi che era una scopata safe nel senso che lei non trovava magari Rocco Siffredi e te non trovavi magari non lo so un pezzo di legno avete vi siete portati a casa una serata avete trombato avete sborato entrambi buon fine cioè questo è quello che avrà visto lei se non ti ha più riscritto di che ne frega un cazzo nemmeno a lei quindi ecco se la vuoi ricontattare per trombare ci sta però non rimaneci sotto per questa roba più che altro cioè se non provi più niente per lei avete avuto una relazione riprendere riprendere a rifrequentarvi per scopare basta sinceramente non mi sembra più che la mossa più saggiata del mondo ecco esatto ma lui mica ha scritto che non interessa si dall'altro c'è scritto magari sei irrequieto e sei un po' un po' così perché la nostalgia per perché semplicemente vuoi riscopare c'hai voglia ti ha fatto rivenire voglia perché magari è cioè vuoi la vuoi perché è semplice da avere e quindi per te è una giocata semplice nel senso e quindi sei tentato quasi no di tornare perché non devi fare il processo di ricerca conoscenza approccio bacio eccetera eccetera ciao danni e chris ciao dopo un'ultima avventura con una ragazza tentata tentata fidanzata ho deciso che la miglior soluzione per me di stare bene è non cercare una possibile metà in nessuna ragazza di fatti ho abbassato i rapporti sessuali ma ho invece molto più amiche che accettano questa scelta però qualche settimana fa in un locale vi di una ragazza che non vedevo da mesi e per un attimo tutte le mie decisioni furono vane chi sei Dante in un modo o nell'altro riesco a superare la paura di trovarmi in una pessima situazione e decido di contattarla tramite instagram inizialmente come al solito delle ragazze c'è questo ghosting sì no ovvero risponde a messaggi ma tra alcuni di loro passano veramente delle ore ma in ogni caso risponde mi pone delle domande come di dove sei o no mio padre non è uno sbirro scherzo vabbè ok dopo alcuni messaggi lo stop continua forse è per questo che c'è uno stop di otto ore a questo punto dopo alcuni messaggi lo stop continua per otto ore a questo punto dopo un po' dopo un suo messaggio decido io di non risponderlo quantomeno di continuare una conversazione forzata io però in tutta sicilità vorrei continuare a parlarla e conoscerla di più ai miei occhi è già bellissimo quindi non c'è nessun risentimento sull'aspetto vorrei solamente sapere più di lei le sue passioni cosa le piace eccetera ma evitando di essere un opportuno invasivo non le sto schimando in nessun modo una soluzione potrebbe essere parlare della prossima occasione in cui la veda boh evidentemente sì però non vedo cosa ci sia di invasivo nel domandare fare conversazione normale cioè a meno che tu non le chieda ti piace il sesso anale o meno cioè se ti piace oh ti garba che musia ti piace cioè non ci vedo niente di male cioè in pratica se io ho capito bene lui non sa come comportarsi quando lei non risponde per otto o nove ore sì e poi ha deciso di farla anche lui però in realtà lui è interessato e le piace cioè gli piace e questa cosa sta allungando i tempi quindi lui non è non sa cosa fare cioè sì poi il solito delle ragazze non è vera sta cosa anche i ragazzi le fanno che fastidio ma poi se ti rispondi dopo sei ore che male c'è cioè non è che uno vive al telefono ma beh ci sta magari se stiamo facendo una discussione mi molle così un po' vabbè sti cazzi cioè dimmi guà boh se state proprio parlando nel vivo del discorso ci rimango un po' male dimmi guà sto a far roba ci sentiamo più tardi cazzo ne so ma se torna comunque a risponderti anche dopo dottore vuol dire che comunque il tempo per risponderti l'ha trovato in mezzo alle sue cose da fare se non ti rispondi o se ti rispondi a monosillabi e non ti fa mai domande boh a me fa un po' incazzare devo essere sincera cioè io mi ricordo che quando ho conosciuto dalle persone mettiamola così e cioè stavi comunque flertando comunque ti stavi conoscendo eccetera ed eri nel vivo del discorso quindi non si parla di un discorso morto quindi il tempo cioè si parla di un discorso vivo e poi boom rispondi e rispondi dopo dottore cioè che palle mi aspetta almeno un messaggio tipo guà ci ho avuto roba da fa mi spiace cioè perché ci rimango male io io no sinceramente cioè mi è capitato anche avere conversazioni che vanno magari scrivo io il pomeriggio risponde la mattina dopo poi io scrivo la sera lei risponde la sera dopo cioè non ci vediamo altri mali noi c'è i suoi impegni non deve essere una priorità esatto cioè lì stava anche rispettando i due tempi no Nanni cioè tu eri d'accordo col fare questa cosa qua invece lui vorrebbe magari avere una conversazione un po' più lunga per conoscersi e tutto e una volta cioè che lei non ti risponde secondo me puoi solo rosicare e fine poi perdo anche interesse sinceramente anche perché cioè il discorso si sta facendo in quel momento cazzo poi hai una discussione che dura una settimana cioè che palle ma secondo me se vuoi se chiaramente vuoi l'occasione per parlarci direttamente senza teppi morti invitala a uscire cioè e lì vedrai di per sé accetta di persona un po' risponde dopo tre ore fin tanto che sostiene la conversazione digitale cioè non deve avere nessuna nessuna pretesa né nessuna arroganza di dire deve rispondermi subito fin tanto che ripeto che ti risponde e ti domanda anche lei le cose o comunque ti risponde interessata a quello che ha il discorso vuol dire che quelli sono i suoi tempi ce li devi rispettare se non ti vanno bene ne cerchi in altra molto semplice cioè lei cioè scusami voi non vi siete mai non siete mai usciti non state insieme la relazione non esiste il rapporto mano tra di voi non esiste e te hai già la pretesa che lei ti risponda secondo i tuoi tempi e secondo come vuoi te e secondo quelli che per te sono giusti ma chi cazzo sei ma fatti anzi tua no ma nessuno sta dicendo infatti che mi devi rispondere subito però cioè se in quel momento non hai voglia di parlarmi e siamo nel vivo del discorso ripeto o mi dici guarda ora sono impegnato nel caso ci sentiamo più in là o domani o quel cazzo che è ci sentiamo punto oppure dopo Tori mi scrivi guarda stavo facendo della roba perché a me questo atteggiamento è indice di persona che ritarda tipo alle uscite è indice del fatto che se ci metteremo insieme o anche se intraprendo una relazione un pochettino più profonda cioè farà sempre sta roba a me gira troppo ma non è vero questo cioè non è non è non è dovuto cioè magari mi dà idea che questa persona sia così magari all'altra persona per lì non ne sta fregando un cazzo di sto tipo e quindi risponde quando cazzo gli pare perché magari non gli sono state fatte le domande che l'hanno coinvolta nella conversazione cioè magari lui è lì che scrive di dove sei cioè e lei non c'ha voglia perché magari di domande di dove sei gli ne arrivano 800 al giorno prova a cercare è interessata probabilmente o comunque magari è interessata esteticamente ma la conversazione non la sta prendendo prova a fare una domanda un pochino più personale un pochino più ingaggiante questo è un altro discorso quello che ti sto dicendo è che non è per forza colpa del ragazzo ma non è per forza neanche colpa della ragazza magari è lui che ne è bravo a rendere una conversazione interessante per lei cioè il mio unico scopo nella vita è essere come il protagonista del grande Le Boschi viva Volpescu e viva le 500 fan culo le paranoie e i doveri Nanni Succa sono d'accordo alla parte che credo che Volpe non viva come il grande Le Boschi anche perché il grande Le Boschi viveva in un appartamento da solo insomma capisco che possa essere simile ma è proprio te lo dico perché l'ho visto 18 volte il film non per togliere nulla a mio fratello Giovanni però sono proprio cose diverse se non è che se uno fuma joint e dice si mi porti una sega il grande Le Boschi proprio non c'entra niente se vuole fare paragonia di cinematografia proprio nulla è proprio uno stile di vita tra l'altro classico di un gruppo sociale americano ben definito insomma è un discorso diverso c'è della lore sì 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 comunque sì sono d'accordo piacerebbe un po' a tutti lo stile di vita del drugo del dude il problema è che devi essere pronto per accettarlo puoi farlo puoi tranquillo puoi farlo veramente di che stile di vita si parla via esci di casa a comprare il latte al supermercato in accappatoio in vestaglia tipo con le mutande e ciabatte vivi la vita alla giornata te ne sbatti di tutto e tutto fumi joint prendi la vita come viene insomma considera che non fai programmi diciamo vivi proprio alla giornata con quello che la vita ti dà fondamentalmente un po' tipo ragazzo del sud Italia e però considera anche questo te lo dico perché è una cosa che mi sento di dirti è vero che spesso e volentieri si sognano delle vite da film o delle vite da serie tv considera però che sono cioè che rimangono quelle nel senso di persone capaci nel mantenere una vita del genere a parte che il film è una parodia questa è una cosa che è un'altra cosa che ti dico proprio una parodia dei film investigativi di Humphrey Bogart e roba simile quindi proprio anche il personaggio è estremamente è proprio costruito per essere una parodia vera e pura quindi è estremizzato al massimo al massimo livelli ma anche se tu volessi intraprendere un tipo di vita del genere devi comunque averci purtroppo nella vita un sostentamento economico nel senso perché magari oh stella grazie per l'audio il grande le boschi non te lo dice però magari i suoi genitori hanno lasciato tipo 3 milioni in banca lui semplicemente decide di viverseli così fregandosene degli oggetti fregandosene e semplicemente giocando a bullying e divertendosi con i suoi amici ok però il grande le boschi c'ha NASA a New York a Manhattan dove cazzo sono c'ha comunque c'ha l'affitto lo paga voglio dire poi ripeto la puoi intraprendere un un tipo di vita del genere molto difficile diciamo che te ne prendi anche tutte le conseguenze cioè non è rosa e fiori esatto cioè devi pensare anche alle cose alle dinamiche che possono effettivamente evolversi ecco ma poi la cosa bella secondo me a parte questo paragone però la cosa bella della vita in generale una delle poche cose belle è che poi fondamentalmente poi vabbè continuo molto momento quark non ho voglia di tanto fra tanti minuti finisce non ho voglia di riaggiornare la pace grazie Frank il bello della vita fondamentalmente è che puoi costruirtela come cazzo ti pare se ci riesci quindi prova a riuscire a costruire una vita del genere se è quella che vuoi se è quella che pensi ti possa far star bene più che altro fan cura le paranoie e i doveri cioè nella vita ci vuole anche secondo me un po' di disciplina perché se no non sai stare al mondo sia con gli amici sia con delle possibili cose sentimentali con i tuoi genitori nel lavoro poi se tu ti puoi permettere che sei che cazzo ne so il the wolf of wall street che sei ricospondato e poi effettivamente permette di fare quello che vuoi ed è la vita che vuoi effettivamente ottenere è un altro discorso ma non per forza ricco nel senso che cazzo ne so magari i lavori i doveri c'è certo poi andrà che ne so a vive poi andrà a vive sotto un ponte poi andrà a vive alla stazione poi andrà a vive in un ostello in una fattoria del Nepal che cazzo ne so puoi fare il cazzo che ti pare nella vita però bisogna avere il coraggio di prendere le scelte le direzioni o di avere la possibilità quantomeno di fare o cercare di avere la possibilità di farlo è chiaro è che posso io dire vabbè da domani voglio comprare un elicottero se non c'ho sordi un lompro però posso dire ok da domani vado a fare il backpacker in Australia oppure vado in America a cercare l'oro se i visti me lo permettono a fare l'autostop sulla Route 66 cioè volere è potere ciao Cree buona fiera salutami il tizio qualunque ciao bello ciao Naniers ciao 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 ciao